Buongiorno picciotti, oggi entusiasmo nonostante io abbia dormito veramente poco stanotte perché ieri sera c'è stato il delirio del mondo proprio per strada una musica incredibile ad un volume esagerato, ho chiamato la polizia due volte, non è cambiato nulla però il mio entusiasmo di oggi è legato al fatto che stanno venendo gli operai a montarmi gli infissi nuovi nella speranza che una volta montati questi infissi io possa dormire il problema è che stamattina avrei dovuto svegliarmi presto, sistemare la casa perché dovevo comunque farli accedere alle camere in cui devono mettere gli infissi quindi volevo sistemare la casa e poi condurre una vita normale e accogliere questi operai in realtà non ho sentito la sveglia, mi sono svegliata e c'era mia madre nel casa, mi ha preso un colpo quando sono arrivata all'ingresso e aveva già fatto tutto lei Santa donna, infatti è di là adesso io mi lavo il bì, sono proprio tempo di farmi la doccia perché sono qua giù però almeno mi lavo i denti anche se non è mattina perché sono le 11 e per me è praticamente ora di pranzo nella normalità ma oggi sono molto scombossolata e anche molto nervosa oltre ad essere tutta piena di dolori ma adesso mi racconto utilizzo un pannetto per togliere poi i residui di detergente gel oleoso dal viso perché faccio sempre la doppia detersione e il pannetto va pulito continuamente e io lo pulisco quando sto per utilizzarlo quindi non quando ho finito di usarlo perché poi gli si depositano germi, schifezze, cosette proprio prima di utilizzarlo semplicemente per minimizzare i tempi perché sono molto pigra, ossia la news, la mia lingua io tengo il sapone di Marsia come se fosse il sapone per le mani, cioè accanto al lavandino e quindi ogni volta quando devo struccarmi o quando mi sveglio detergo il viso pulisco il pannetto col sapone di Marsia, fa un odore strepitoso, lo pulisco bene poi lo sciacquo e sono pronta per fare la mia skin care faccio la doppia detersione, utilizzo il gel oleoso di Gofu le dita devono essere perfettamente asciutte siccome mattina non ho la faccia sporca, però sono bella unta, uso comunque poco olio questo prodotto a me piace molto perché è davvero leggero e non unge quanto un detergente oleoso classico quindi lo massaggio su tutto il viso, insisto nelle zone in cui ho più punti neri non vado sugli occhi perché ve l'ho già detto, io probabilmente ho gli occhi molto delicati tutti i detergenti oleosi, ma proprio tutti, anche quelli burrosi, tutti, mi danno fastidio agli occhi mi appannano la vista, anche se sono struccata quindi non è colpa del trucco che va dentro gli occhi, cioè proprio in generale a questo punto sciacquo soltanto le mani, non il viso e utilizzo il gel detergente sempre di Gofu devo dire che tra i prodotti del brand questo è quello che mi piace meno ma esclusivamente perché all'interno ha delle micro palline che in teoria contengono credo degli antiossidanti ora non mi ricordo cosa siano, scusami però vanno in teoria massaggiando il prodotto tra le mani queste palline si scoppiano e quindi si fondono perfettamente col prodotto e danno il loro apporto, giusto? il problema è che io devo insistere parecchio per farle scoppiare e spesso me ne restano alcune intatte comunque adesso massaggio il prodotto che però ha un odore squisito proprio mi piace tantissimo sul viso prendo il pannetto in microfibra inumidito e tolgo via tutto e devo dire che con questa combo la mia pelle è pulita però non è minimamente aggredita cioè proprio io sento che la pelle sta bene e per questo la utilizzo spesso e mi piace tanto adesso sciacquo bene il viso lo asciugo e poi passiamo alla crema in realtà io ho qua questo che contiene tutti i prodotti di skincare che ho comprato in Corea e che ancora non ho utilizzato vorrei provare qualcosina forse potrei provare uno di questi cosi che contengono paddi imbevuti allora questo secondo me va usato la sera ci manchiamolo solo le campane ho deciso utilizzerò questo un po' perché è sicuramente più brutto di questo così finisco prima lui e poi perché in realtà contiene centella asiatica quindi dovrebbe non soltanto purificare la pelle perché c'è scritto che rimuove l'eccesso di olio e tipo affina i pori però è anche indicato per pelli sensibili e aiuta a sentire la pelle rinfrescata e idratata ah così qua dentro c'è una pinzetta proprio per prendere questi cotoncini la chiusura è ermetica oddio ma è difficilissimo ok oh no raghi è caduto tutto il prodotto a terra sono iper imbevuti sti cosi ha un odore un po' chimico quasi alcolico però è scritto tutto in coreano quindi non riesco a capire se ci sia alcol vabbè passo come se fosse un discetto imbevuto di tonico sicuramente molto rinfrescante ma veramente tanto imbevuto voglio sperare che tipo ora non si secchino perché è caduto un sacco di liquido a terra beh nonostante tutto la mia pelle era comunque ancora un po' sporchina cioè c'era qualcosa anche un glitter aspettiamo che si assorba oddio ma lo sapete che mi sembra che veramente abbia un po' affinato i pori comunque mi sento idratata vedremo adesso utilizzo il contornocchi non sto usando siero in questo momento perché qua ancora fa caldo e vorrei un attimo ristabilizzare la mia pelle dopo l'estate l'estate è sempre un periodo in cui ok mi prendo cura della mia pelle però neanche tantissime utilizzo questo contornocchi di filorga che è tipo defaticante molto leggero ci sono dei miei prodotti di skin care preferiti che sono proprio di filorga cioè ce n'è uno che è quello su cui siete poggiati in questo momento che si chiama scrub and mask che io amo mi piace da morire l'odore mi piace l'effetto sono proprio molto performanti e quindi quando vedo delle cose che non ho provato le compro le provo è un brand un po' da signora diciamo magari vi lascio i link dei prodotti che sto utilizzando giù nell'info box ok adesso metto semplicemente la crema e lavo i denti che ancora li ho lavati crema viso sempre di gofu questo è indubbiamente il mio prodotto preferito del brand perché è proprio leggera però idrata veramente lascio la pelle bella è un prodotto che ho utilizzato con costanza secondo me migliora notevolmente la grana della pelle proprio bravi se dovessi creare una linea di skin care non saprei fare meglio a proposito è un'idea che vi interesserebbe o fa bene che nel 2023 saranno in circolazione delle monete da 2 euro con la faccia di Raffaella Calà più probabilmente poche monete adesso sulle labbra applico questo prodotto di Laneige e andiamo a fare la nostra to do list qui ne abbiamo quelli delle porte finestra che stanno sempre fino adesso stanno ancora scaricando il materiale lamentino gel lamentino bello ma chi è questo bambino niente alla fine altro che tu durista sono qua con Giovi sembra che stiamo aspettando l'autobus oggi proprio ecco quando mi dite fai sempre questi vlog in cui sei sempre felice ma tu sei mai triste sempre continuamente anzi io sono sempre incazzata vuoi dire qualcosa a tal proposito la gente mi chiede ma Giovi ma che fine ha fatto non mi sono non ci sono stata devi guardare qua mamma se riesci qui non guardarti non ci sono stata perché devo andare dal parrucchiere quindi sono stata molto impegnata alla ricerca del mio parrucchiere e quindi ho avuto questo da fare e adesso poi torno e facciamo tante belle cose perché mi beh si ricordano tutti si ricordano perché mi chiedono ti ricordi una volta noi abbiamo fatto un video in cui mi sa che io ti truccavo e avevamo detto se raggiungiamo un tot di like Giovi trucca me e non l'abbiamo mai fatto non l'abbiamo mai fatto però quei like mi sa che li avevamo raggiunti quindi dovremmo fare un video in cui tu mi trucchi senza litigarci senza litigarci fai vedere che tipo di pelle hai farò un'impresa di vino no no è una pelle mista fai vedere fai vedere non mi devi toccare vi giuro vicciotti non ne posso più adesso stiamo cercando dei letti perché voi ci credete che quando è successo che mi è arrivato l'armadio nuovo a febbraio dopo Berlino e voi avete pure il video ho fatto no però forse il video l'ho fatto uscire da poco vabbè comunque un miliardo di anni fa ho comprato sto armadio nuovo ancora non ho il letto ma questo perché sono io una persona problematica così come per la scelta del divano io ci sto troppo tempo a trovare soprattutto per le cose di casa perché poi nella vita normale non credo di essere così però a trovare il pezzo che mi piace proprio per cui ne vale la pena perché comunque alla fine ti devi mettere in mano un po' di soldi per comprare un letto non è che lo compri e poi dici no non mi piace non ne compro un altro giusto quindi è una cosa che mi richiede uno sforzo enorme e non riesco a trovare un letto che mi piace cioè l'ho trovato però di un colore del legno che non mi piace e quindi niente alla fine sicuramente prenderò il letto della casa vacà ma che sta cosa mi prego me lo devo fare vedere no è caruccio è caruccio perché rimane neutro è così un po' mamma è osceno è tipo di vimini no 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 vi faccio vedere quello che piacerebbe a me cioè nel senso a me piace questo questo modello di Maison du Monde però non mi piace il colore del legno io credo di avere un rifiuto per i legni un po' giallini perché nella mia camera da letto quando ero piccola avevo un armadio enorme di noce e io odio però per esempio in teoria scusatemi per il macello quella dovrebbe essere noce ma è fredda e scura com'è possibile che l'armadio di noce che avevo nella mia camera da letto da piccola era noce che era praticamente uguale al fesso allora la libreria che io ho a casa è noce ed è gialla questo è quercia come che è quello invece freddo perché c'è la noce manzonia noce ok quindi ci sono diversi tipi di noce e questo letto che si chiama Portobello di Maison du Monde a me mi somiglio ma al negozio non ce l'hanno che non lo può vedere no ma l'ho già visto anche in foto d'altra gente nei video è giallo poi ha tipo su Cave Home che è il brand il sito da cui ho acquistato il divano c'è questo che è molto carino questo che è ovviamente di legno chiaro però non è giallino comunque il legno quindi non si dovrebbe sposare male con il legno più scuro però ha uno stile ma questo è mango mango per niente è il legno questo mango non è ma non è legno ma il mango è mango vabbè comunque non è in realtà quello che voglio però almeno ha uno stile poi tutti hanno tutti questi piedini chiari poi allora altrimenti mi compro sto letto che non è assolutamente nulla di Ikea che è tipo con una fodera così un modello un po' simpatico mezzo nordico però neanche tipo essere estremamente bastato di moda però c'è proprio niente di che è una scelta difficile adesso basta la smetto di essere così lamentina mia madre è appena stata in questa casa si può percepire dal fatto che ci fosse gambero rosso in televisione io invece sono appena stata in palestra ci sono aggiornata da una decina di minuti non ci siamo più sentiti perché alla fine non mi hanno messo le finestre cioè c'è stato un via vai di operai in questa casa tutto il giorno tant'è che io a un certo punto ho detto a mia madre ma scusami ma io devo andare in palestra cioè oggi è mercoledì ho iniziato lunedì non posso abbandonare al secondo giorno nonostante io non sia stata bene ma adesso vi racconto però vi faccio vedere che cosa mi hanno lasciato gli operai cioè non so se riuscite a capire quanto sono allora io sono alta così cioè qui quanto sono alte queste cose questi vetri perché purtroppo le finestre di casa mia sono dei super fuori misura e per fare gli infissi nuovi niente il danno è stato un indifferente la cosa che preferirei è che il sindaco ripristinasse un po' la situazione cioè mettesse un attimo in chiaro delle cose in questa città visto che è appena arrivato che può fare qualcosa la prossima volta io ve lo dico il sindaco in questa città lo faccio io ve lo dico anche perché quest'anno sono rimasta molto male che alle comunali qua a Palermo si è candidato chiunque è la maggior parte delle persone che riuscivo a riconoscere tra i candidati alle comunali non parla italiano cioè non politica non parla italiano quindi mi sono ripromessa che alle prossime elezioni comunali io mi candido quando ho iniziato a studiare diritto pubblico e quindi effettivamente ho capito cioè perché io non avevo idea non so se voi al liceo parlavate di politica di governo io non avevo idea quindi quando ho fatto diritto pubblico ho scoperto un sacco di cose e tipo ho sempre pensato che avrei voluto essere il presidente del consiglio sempre vincito cosa mi fai la grande il medico l'avvocato tu il presidente del consiglio esattamente una settimana dopo dall'inizio di questo vlog abbiamo i nuovi insessi alla fine erano gli ultimi giorni di mio fratello qua a Palermo e quindi dopo le riprese che avete visto e dopo essermi fatta molto male in palestra molto male adesso vi racconto un attimo cosa sta succedendo nella mia vita avevo deciso di abbandonare il vlog però siccome avevo fatto già 15 minuti di ripresa ho detto ma perché scusami allora vi faccio vedere gli infissi nuovi sono super contenta stanotte dormirò per la prima volta spero senza sentire troppi rumori eccoci qua sono bianchi in realtà quelli vecchi erano di questo colore e soprattutto avevano la roba che si chiudeva qua che comunque era molto costosa quindi abbiamo scelto di non metterla ovviamente ho le tende ma ne ho approfittato per lavarle sono chiaramente nuovi cioè l'apertura è così come le finestre moderne non ho mai avuto finestre moderne forse a Enna devo dire che già così non si sente nulla incrociamo le dita che ne dite di questa piega un po' voluminosa da signora fatta con il Dyson e il wrap non mi esprimo ancora vi farò un video super completo spero a fine settembre mi ho avuto un problema con il brand cioè nel senso che il Dyson mi è arrivato difettato e l'ho scoperto nel corso del tempo utilizzandolo perché c'è un cono che non funziona e siccome un cono fa le veci di due coni diciamo perché mi permette di fare la piega sia a destra che a sinistra sono un po' così e sto aspettando che mi mandino quello nuovo però niente mi riservo di parlarvene in un futuro non troppo lontano intanto questa piega comunque mi piace l'altro giorno sono uscita un mio amico mi ha detto ma che hai fatto hai capelli diversi sono fatta la piega perché di solito soprattutto in estate non li asciugo neanche sono belli gonfi e tipo tutti ondulati dietro un po' crespetti e qua lì non sono proprio un bel vedere però vieni a fare la piega è impegnativo cioè ci vuole del tempo vorrei concludere questo vlog facendovi vedere i miei acquisti di cartoleria un po' tipo back to school avrei voluto fare un video sistemato però secondo me forse sarebbe stato anche un po' noiosetto invece magari se vi piacciono i vlog potete cogliere l'occasione anche per vedere delle cose carine forse non tutti sanno che io ho una seria fissazione con la cartoleria credo che uno dei miei primi video qui su youtube sia proprio stato sulla mia agenda e ogni anno a settembre però in realtà certe volte anche a gennaio dipende da come mi è presa a settembre compro nuove cose di cartoleria proprio per me l'acquisto di cartoleria segna all'inizio dell'anno ed è una cosa che mi ha tramandato mia nonna ogni anno facevamo gli acquisti quelli grossi e lei si prendeva appunti e lo faccio ancora e certo compro più cose rispetto a quelle che effettivamente mi servono quest'anno ho fatto degli acquisti un po' fuori dalla mia comfort zone ho anche comprato in realtà tre agende mea culpa credo però che una non la terrò cioè la regalerò perché effettivamente è proprio in più e poi ho trovato la mia agenda dai vi faccio vedere partiamo da questa cosa coccolosissima di cui non avevo nessun bisogno praticamente sono tanti post-it di dimensioni diverse che formano un arcobaleno e sono veramente tanti cioè ne avevo bisogno assolutamente no per adesso lo sto utilizzando e ho trovato questa sciccheria in una tipo specie di credo si chiami proprio Mondadori che c'è a Castelbuono però vende alcuni libri un po' edicola e un po' vende penne e cose di cartoleria ed è costato 4,99 euro è di legami alla Feltrinelli invece ho comprato un quaderno di Mr. Wonderful soltanto dopo ho scoperto che fosse con le pagine bianche però in realtà a me piace scrivere sulle pagine bianche però perché mi sforzo parecchio però non sono proprio comodissime il quaderno è una 5 è comodo e le pagine non sono neanche quelle che piacciono a me perché a me piace la carta liscia questa è un po' ruvidina però siccome scrivo con una penna che va bene su tutte le carte non mi si blocca la mano mentre scrivo non so se qualcuno riesce a capire questo disagio ok mi sono appena ricordata che ho comprato anche questo alla Feltrinelli mi faceva molto ridere e questi quaderni di questa marca a me piacciono moltissimo la carta non è estremamente spessa però è liscia e poi hanno una cosa super carina cioè che sono divisi in sezioni c'è una parte con le righe una parte a quadretti e qua sopra si può scrivere tipo la data o un'intestazione è una parte puntinata e poi ci sono questi separatori di cartoncino che sono con la stessa fantasia della copertina credo di avere questi quaderni di qualsiasi fantasia perché li ho sempre comprati per l'università hanno anche un elastico penso costino 12 euro cioè tanto tanto però quest'anno ho comprato questo per il lavoro prima di farvi vedere l'agenda che ho scelto per quest'anno scolastico diciamo anche se in realtà la conoscete perché ve l'ho fatta vedere su instagram però ve la faccio vedere un po' meglio qua vi faccio vedere cosa ho comprato su creamy shop che è il brand di cartuleria di Miss Creamy Creamy brand che a me piace molto dal quale acquisto spesso ho preso questa pochette che era in collaborazione con stabilo che dentro ha un washi tape che in realtà non so se utilizzerò mai dentro questa bustina ci sono questi tre evidenziatori pastello troppo carini di stabilo non li avevo mai provati e li sto utilizzando e poi con gli stessi colori quindi fucsia azzurrino e arancio tre pennarelli che hanno punte differenti credo che questa sia un po' più rigida e questa è più morbida è un pennarello nero una penna pennarello nero vabbè mi servivano? no li ho comprati sì perché è buono lo so picciati perché quando io vedo queste cose impazzisco a che ci sono? vi faccio vedere la mia penna non è assolutamente niente di che tra l'altro non è manco una penna chissà quanto costosa però è la mia penna preferita ho mille ricariche quindi questa ce l'ho con me tipo da non lo so quattro anni e mi piace è una penna in gel bella vi lascio giù nell'info box la mia vetrina di amazon in cui c'è una sezione di cartoleria quindi se dovesse interessarvi qualcosina ve la lascio giù quando è uscita ho comprato la to do sempre di creamy shop e quest'anno che è uscita la to do planner non potevo non acquistarla è super carina è proprio un'agendina in cui in ogni giorno ci sono delle caselle da spuntare non ci sono numeri scritti per cui è assolutamente compilabile in qualsiasi momento dell'anno non è neanche necessario utilizzarla con continuità e la cosa super carina è che ogni 5 settimane la to do list cambia colore veramente deliziosa anche lei ha un elastico però devo dirvi che forse io preferisco la to do normale cioè la sto utilizzando in questi giorni però buh non lo so l'idea di vedere già qui cose scritte di ieri scusatemi sono una persona particolare comunque c'era in due colori io ho preso questo verdino che mi piaceva molto penso che insieme all'astuccio ci fossero degli adesivi in realtà ho comprato anche la agenda che si chiama bullet wannabe sempre di creamy shop e con l'agenda ci sono questi adesivi super bellini non credo di tenermi l'agenda perché anche questa era disponibile in due fantasie e io ho preso diciamo la fantasia di punta quella un po' arcobalenosa è molto bella è fatta davvero benissimo guardate che deliziosi i cotoncini per la rilegatura così arcobalenosi è proprio una bella agenda all'inizio del mese c'è questo qua sopra si mette un adesivo si fa un disegno qua c'è tipo un tracker qua si possono scrivere delle cose ogni settimana è così credo che il motivo per cui io ho deciso di non utilizzare questa e ho scelto un'altra agenda per quest'anno potrebbe essere che c'è troppo nero cioè questa è una cosa dei matti lo so però per me è troppo scura la casellina con la settimana vabbè così lo so lo so è una cosa dei pazzi lo so nemmeno rendo conto però è bellissima e quindi la regalerò ad una mia amica o a mia mamma sono contenta comunque di averla comprata e di averla toccata con mano perché è bella ovviamente anche lei ha un elastico per chiuderla che comunque io non uso mai guardate che belli i profili è proprio bella cioè forse la me dell'università l'avrebbe utilizzata con grandissimo piacere oggi tutto questo scuro mi disturba però è carina perché c'è una parte iniziale in cui si può fare del lettering qua c'è l'indice così possono scrivere gli orari se andate a scuola o qualsiasi altra cosa boh cioè oggettivamente è bella è un bel prodotto fatemi sapere quale agenda avete scelto per quest'anno e adesso è arrivato il momento di farvi vedere la mia eccola qua ho scelto l'agenda dei disegnetti dei pressetti devo dire che tra tutte non è quella qualitativamente migliore perché voi la aprite e non resta aperta la carta è spessissima oggettivamente però non ha la qualità di creamy shop o virgola tra parentesi sapete quanto io supporti virgola le agende di quest'anno sono deliziose però volevo un po' spaziare cambiare e alla fine ho scelto questa picciotti perché mi sta simpatica a parte che ho comprato sul sito dei disegnetti dei pressetti delle cartoline un po' motivazionali un po' no che sono deliziose ma poi quanto è carina cioè è troppo carina alla fine del mese ci sono tipo puoi scrivere quali sono i film i posti che hai visto le tue canzoni preferite qua ci sono altre robe che puoi match puoi scrivere cose chissà se lo farò mai all'inizio del mese ti prendi a bene oggettivamente e poi le settimane sono così ogni mese ha dei colori diversi boh raghi a me fa impazzire e poi ci sono degli stickers alla fine dell'agenda c'è una visione mensile sino ad agosto 2024 cioè da dove finisce l'agenda ossia settembre 2023 sino ad agosto 2024 poi c'è una parte sia all'inizio che alla fine in cui si può colorare poi qua abbiamo una sezione con le idee regalo un budget planner carino e poi delle pagine puntinate così per scrivere delle note quanto è carina mi piace veramente tantissimo mi piace anche che sia in cartone cioè l'idea che si rovini non mi dà fastidio mi sa di cosa davvero utilizzate poi io amo disegnetti dei pressetti guardate quanto sono carini gli adesivi li sto utilizzando sì devo dire che li sto utilizzando perché sono così carini che questa volta mi dispiace tenerli qua adesso l'obiettivo è soltanto scrivere sull'agenda comunque utilizzare queste cose di cartoleria e non abbandonarle perché purtroppo sono una di quelle persone bruttissime non lo so intanto l'entusiasmo per l'agenda nuova per settembre è una cosa che mi gasa a tal punto che sono andata in palestra la settimana scorsa due volte anche se avrei voluto andare tre e oggi che è lunedì un'altra volta quindi ufficialmente sono andata in palestra soltanto tre volte nella mia testa sono già due settimane il fatto è che vado in una palestra un po' particolare perché in realtà è più un allenamento col personal trainer cioè tu acquisti dei pacchetti di lezioni col personal trainer ti prenoti e poi effettivamente arrivi là all'orario in cui ti sei prenotata e sai già se c'è qualcun altro con te perché ci si allena in piccole classi piccoli gruppi di massimo quattro persone del tuo stesso sesso e questo perché bene o male ti fa lo stesso tipo di allenamento con carichi diversi e questa cosa mi gasa avevo comprato un pacchetto di lezioni ad aprile di quest'anno avevo iniziato ad andare però poi sono sagittaria ho accionata tipo tre volte quattro volte ho detto questa settimana no la prossima no poi sono stata male e non sono mai più andata sono andata alla festa della palestra hanno fatto una festa tipo a fine luglio e mi ero ripromessa che sarei tornata a settembre ed è stato così solitanto che io da aprile che è stato quando ho proprio messo piedi da pity room fino ad oggi ho perso veramente tanto peso ma di questo ne riparliamo perché ho qualcosa da dire però insomma sono stata male e quindi il mio corpo è sicuramente debilitato quando ho ricominciato lunedì ad allenarmi sono tornata a casa che avevo devastata e mi sono fatta male cioè forse ho sforzato un po' troppo il dorsale e mi sono fatta male quindi ho detto ok mi sono fatta degli impacchi col Voltaren ed è stato anche un po' il motivo per cui questo vlog l'avevo un po' interrotto perché non mi sentivo benissimo non potevo alzare la spalla con gli impacchi col Voltaren la situazione è andata meglio e quindi sono tornata in palestra il mercoledì ma ho sforzato troppo il braccio e quindi da giovedì fino all'altro ieri ho avuto il braccio questo tutto gonfio mi facevo un male atroce e allora è stato il personal trainer stesso a dirmi riposati forse non devi fare degli allenamenti così ravvicinati comunque il tuo corpo è un po' debilitato quindi ci vediamo la settimana prossima e sono andata oggi sono fiera di me perché questo cioè quale miglior scusa per mollare invece ancora no mi fido non mi fido minimamente di me e niente viciotti questo vlog finisce qua io spero di non avere parlato tanto tantissimo spero di avervi tenuto a compagnia e quindi mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un pallice in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto exo exo la retro ciao